L'evento si chiama Sport Show e verrà fatta la fiera di Berescia, Bricks Expo, il 23-24-25 marzo del 2012. È un evento che non possiamo svelare ancora nulla, ma che andrà ad abbracciare un po' tutte le discipline sportive e non solo lo sport, ma anche tutte quelle attività di intrattenimento. L'idea è quella di creare un grosso spettacolo, un contenitore con una serie di spettacoli per coinvolgere la gente. Sarà un evento che appunto sarà il 23-24-25 marzo 2012, quindi un venerdì, un sabato e domenica, dove il venerdì e il sabato mattina c'è appunto il progetto con la provincia di Berescia per portare le scuole. Quindi tutta attività gratuita la mattina del venerdì e del sabato per le scuole. Verrà fatto appunto questo concorso in collaborazione sempre con l'assessorato dello sport della provincia di Berescia, quindi con l'assessor Mandelli, un concorso dedicato ai writers, dove fino al 8 marzo c'era questo bando dove i primi tre writers potranno venire in fiera e dipingere lo stand dell'assessorato dello sport dove verranno dati poi dei premi in ordine al primo o al terzo.